E' tempo di cessioni in casa Catania dopo il passaggio di Gonzalo Berghesio alla Sampdoria. L'attaccante ha anche ringraziato l'ambiente del rossazzurro su Twitter. Anche un altro storico argentino lascia il Catania, Mariano Izco, passa infatti al Chievo Verona. Dopo le visite mediche ci sarà l'annuncio ufficiale del club scaligero che prende Izco a titolo definitivo. Una trattativa quasi lampo definita nelle ultime ore. Adesso l'altro giocatore che potrebbe lasciare il club rossazzurro è Ciccio Lodi. Ma le offerte per il centrocampista scarseggiano. Probabile che ci possa essere un'impennata negli ultimi giorni di mercato. Anche se il Catania non vuole assolutamente svendere Lodi, tutto. I stand by per Frison, il portiere a questo punto potrebbe anche restare in rossazzurro. Mentre per Bellucci, dopo essere stato vicino a Litz, si attende l'offerta giusta. Moretti, nemmeno convocato per il ritiro di Torre del Grifo, vicino a Latina. Grazie. Grazie.